Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video della casa di Mattia. Dunque avevo già fatto un video simile tre anni fa almeno, ma volevo ritornare sull'argomento dato che oggi sul profilo Instagram la casa di Mattia mi è stato chiesto come lavare i piumini sia in piuma d'oca che in sintetico in lavatrice per fare in modo che non si rovinino e vengano bene. Allora andiamo a fare un piccolo ripasso su come fare. Dunque, innanzitutto bisogna prendere i nostri piumini, girarli al contrario, sempre dalla parte interna. In questo modo preserviamo l'esterno del nostro piumino ancora di più. Poi lo andiamo a mettere in lavatrice, anche questo al contrario, e andiamo a fare un trucchetto che io utilizzo anche per i piumoni. Dunque andiamo per prima cosa a fare questo. Mettiamo un bel programma scarico centrifuga. Andiamo a far fare una centrifuga senza niente in modo tale da togliere l'aria dall'interno del piumino. Allora, una volta finito il ciclo di centrifuga, abbiamo tolto la maggior parte dell'aria dai nostri piumoni, andiamo a... Vabbè, io vado ad inserire un foglietto a chiapa colore, non ce n'è bisogno, ma in generale per farvi vedere che se laviamo comunque tipologie di colori diversi non si sa mai stingano. Poi andiamo a vedere il programma e detersivo. Dunque, il programma da utilizzare è il programma per capi sintetici a 30 gradi con un risciacquo aggiuntivo e se lo avete la modalità breve, perché tanto è più che sufficiente. Se avete un lavaggio dedicato per i piumini, può andare bene, ecco. Io consiglio il sintetici perché è comunque bello e efficace, rimuove lo sporco dai polsini senza dover pretrattare troppo. E lo sbaglio, la voglio sempre sta parola. E niente. Detersivo. Nel video precedente di Trani Fire è rimasto molto, molto, molto preciso sui detersivi. Ora andiamo a vedere quale detersivo usare. A, centrifuga va bene 1200 giri, poi a fine lavaggio io andrei su scarico centrifuga, la farei fare a 1400 in modo da togliere la maggior parte dell'acqua, soprattutto se si usa l'asciugatrice. Allora, come detersivo basta utilizzare un detersivo liquido per capi colorati. Io in questo caso ho il 1000 Ultra Core, ma va benissimo il Dash Salva Colore, che va benissimo qualsiasi detersivo che sia liquido per capi colorati. Quindi vado a metterne circa 25 ml, sono più o meno. Poi facciamo partire il lavaggio e vado a mettere mezzo tappo di Ace Gentile. Potete mettere poi anche un goccino di ammorbidente senza problemi direttamente nella vaschettina. In questo modo, senza esagerare, proprio poco poco. Poi, se decidete di farlo asciugare fuori, sbattete bene i capi con le piume dentro ogni circa ogni oretta, ecco. Se invece utilizzate l'asciugatrice, vi metterò nell'info box il video in cui vi spiego come asciugare i piumini con l'asciugatrice. Quindi, questo ciclo di lavaggio è perfetto per lavare questi piumini. Se il video vi è piaciuto, ovviamente mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al mio canale, commentate se avete bisogno di qualcosa e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!